Finché avrò vita, Firenze non cadrà. In nome di Firenze ha sfidato il mondo. Non abbiamo più alleati, siamo da soli. Dì al referrante che Napoli deve aiutarmi a cacciare Lorenzo da Firenze al più presto. In nome del suo potere ha sacrificato ciò che aveva di più caro. Vostro fratello vi manca? Mi assicurerò che voi e i vostri figli lo raggiungete presto. Però davevi qualcosa per me. La risposta ce la conosci. Non è successo niente. Ma in cuor tuo avresti voluto? Ora per la sua famiglia è pronto a tutto. Il Papa ha rifiutato la mia offerta di pace. Andremo in guerra. Non puoi combattere contro Dio. È lui che dovrebbe chiedere perdono. Arrivano i nuovi episodi della serie italiana che ha conquistato il mondo. Non voglio partire senza il comune. Il mio amore è sempre con te. I Medici nel nome della famiglia. Da lunedì 2 dicembre alle 21 e 25, Rai 1.